Mercoledì 27 giugno alle 19 in programma l'inaugurazione del rinnovato parco pubblico a Bell'Italia dopo i lavori di ristrutturazione che hanno visto un'installazione di giochi inclusivi adatti ad accogliere tutti i bambini. Un obiettivo molto importante per questa amministrazione che ha fatto dei lavori sulle frazioni, in particolare su quella di Bell'Italia, uno degli elementi principali su cui ha concentrato l'attività amministrativa. Bell'Italia ha avuto un po' di anni difficili per la presenza di un cartiere molto complicato che è fallito e ha vissuto alcune difficoltà, a termine delle quali abbiamo cominciato un processo di partecipazione con la frazione molto significativo e molto importante. Abbiamo incontrato in più occasioni i cittadini, insieme a loro abbiamo costruito quelle che sono diventate poi delle realizzazioni concrete per migliorare la frazione. Il parco è un parco che prevede aree di riposo, che prevede ovviamente attrezzature, giochi, panchine ed è al centro della frazione dove attualmente il parco è stato migliorato, è stato reso molto più bello e molto più accogliente. Anche sul parco abbiamo lavorato insieme all'associazione per definire quelle che potessero essere le migliori azioni da mettere in campo, le migliori caratteristiche che il parco doveva avere. Molto importante anche lì la presenza di alcuni giochi inclusivi perché d'ora in avanti in ogni parco, almeno una parte del parco destinata a tutti i bambini, noi vogliamo lasciarla come è stata il parco 2 oggi anche qua. Completato anche il percorso ciclopedonale illuminato collegato al centro di Maranello.